E' stato presentato davanti a un pubblico attento, numeroso e competente presso la sala stampa dell'autodromo Enzo Edino Ferrari di Imola il team Gresini 2020. Moto2, Moto3, MotoE. Il Gresini Racing punta su tutte le categorie con attenzione anche sulla MotoGP Aprilia. Matteo Ferrari, campione del mondo, e Alessandro Zaccone in MotoE. Jeremy Alcoba e Gabriel Rodrigo in Moto3 e Niccolò Bulega ed Edward Pons in Moto2. Fausto Gresini non si nasconde e presenta un team con i due piloti in ogni categoria con obiettivi ambiziosi. Nella squadra emergono fra l'altro due riminesi e un reggiano e l'attenzione particolare è proprio per Niccolò Bulega nella classe intermedia che insieme a Pons non si può più nascondere. La famiglia Gresini cresce, dice Fausto, e quest'anno schiereremo ben sei piloti in queste tre categorie includendo un secondo piloto in Moto2, fondamentale per essere competitivi. In MotoE siamo campioni e sappiamo che sarà difficile riconfermarsi. A fianco di Matteo Ferrari ci sarà un giovane motivato, Zaccone. In Moto3 arriviamo da un anno di grandi delusioni e sappiamo di avere un team molto competitivo. E poi, naturalmente come dicevamo, Gresini non si nasconde sulla Moto2 con Bulega e Pons. Nuove ambizioni? Beh certo, sempre. Abbiamo tante ambizioni, MotoE, Moto2, Moto3, MotoGP. Credo che questo sia un anno un po' speciale. Mi sento di dire che siamo un po' forti dappertutto, quindi abbiamo riconfermato Rodrigo perché pensiamo che lui possa fare molto bene. L'anno scorso è stato particolarmente sfortunato, ma io credo in questo ragazzo che abbia le qualità per primeggiare nella sua categoria. Moto2 è un impegno doppio quest'anno, l'arrivo di Bulega sicuramente ci darà tanto power per spingere sempre e anche Edgar che è campione CEV.